Il contesto in cui nasce la 75 è ben diverso da quello che aveva caratterizzato il debutto delle precedenti berline alfa romeo. Siamo nel 1985, un anno critico per l'alfa e la situazione economica del marchio è talmente compromessa che quasi tutti ormai si aspettavano la cessione del brand da un momento all'altro. Ma si sa, all'alfa sono sempre stati tenaci e pur immaginando quale sarebbe stato da lì a poco il loro destino, la vecchia dirigenza volle tentare ancora una volta di rilanciare il marchio con una vettura che avrebbe fatto parlare di sé per lungo tempo, a partire dal nome 75, come il numero degli anni che l'alfa era rimasta indipendente. Messi da parte i sentimentalismi, la realtà è che la 75 non rappresentava nulla di effettivamente nuovo nel panorama automobilistico, posto che la vettura conservava non solo la meccanica ma anche l'intera ossatura della carrozzeria della Giulietta, nella quale erano state ridisegnate unicamente le parti esterne della Mirati, mantenendo inalterato il giroporta e l'inconfondibile andamento accunio delle fiancate, adesso ancora più enfatizzato. Nonostante ciò, la 75 è riuscita comunque a passare alla storia per essere una delle alfa più rappresentative di sempre, anche se è curioso osservare come al momento della sua presentazione i commenti non furono di eccessivo entusiasmo, secondo i critici del tempo infatti sembrava di essere al cospetto di una sorta di ibrido tra la moderna 33 e la Giulietta che andava a sostituire. In particolare venne criticata quella che con il tempo sarebbe diventata una delle caratteristiche tipiche dell'auto, la modanatura di plastica che si sviluppava lungo la linea di cintura, un elemento che i designer avevano previsto non solo per alleggerire l'andamento della fiancata, ma soprattutto per dissimulare le somiglianze con la berlina da cui derivava. Nonostante però la stretta parentela con la Giulietta, i designer nei fatti erano comunque riusciti a differenziare notevolmente la 75, questo grazie a degli espedienti estetici particolarmente riusciti che avevano conferito alla vettura notevole modernità, come ad esempio la già citata modanatura o la striscia che collegava gli avvolgenti fari posteriori o l'adozione di una calandra pulita senza fronzoli e cromature. Per quanto riguarda gli interni, anche qui la parola d'ordine è modernità ed ergonomia e ciò emerge in particolare nella scelta di spostare alcuni strumenti in alto vicino allo specchietto retrovisore interno o nel sostituire la leva del freno a mano con un maniglione, ma anche nella realizzazione di una plancia semiavvolgente con check panel dedicato e trip computer. Come già anticipato, anche dal punto di vista meccanico, la 75 riprendeva molte delle soluzioni già viste sulla Giulietta, ma questo non deve far ritenere che la 75 fosse un'auto anacronistica, posto che le qualità dinamiche della Giulietta erano già così elevate ai tempi che ancora a fine anni 80 rappresentava un punto di riferimento. In ogni caso vale comunque la pena ricordare l'eccellente bilanciamento dei pesi della 75, risultato questo che era stato raggiunto grazie all'adozione dello schema transaxle che prevedeva la frizione ed il cambio al retrotreno e i freni posteriori entro bordo. Per quanto riguarda l'assetto della vettura invece, la 75 era dotata di sospensioni a quadrilatero all'anteriore e a ponte de Dionne al posteriore, ovvero di una sospensione ad assale rigido dove la struttura forma un trapezio isoscele. In particolare, lo schema a ponte de Dionne adottato dall'Alfa Romeo era utilizzato in combinazione con un'altra importante soluzione, il parallelogramma di Watt, avente la funzione di guidare il ponte nelle sue oscillazioni verticali. Rispetto alla Giulietta però, ben diversa e più ampia era la gamma dei motori della 75. Pur mantenendo di base le classiche cubature della Giulietta, ad esclusione del 2003, i motori della 75 erano stati tutti aggiornati nella cavalleria e proposti a partire dall'89 solo con iniezione elettronica. In più fu previsto un inedito 1.8 turbo, fu ampliata l'offerta dei diesel e vennero introdotti in gamma i V6 busso da 2,5 e 3 litri. Ma la grande novità portata in dote dalla 75 fu l'introduzione per la prima volta su un Alfa del Twin Spark, un motore 2000 di cilindrata e 148 cavalli dotato di due candele per cilindro ed è variatore di fase. Soluzione questa arrivata dalle corse per aumentare le prestazioni e dalle esigenze di abbassare le emissioni e i consumi. La storia della 75 termina nel 93 dopo un restyling nell'88 ad opera di Fiat volto a migliorare la qualità percepita dell'auto e da quel momento la 75 per diversi anni ha rappresentato l'ultima Alfa con schema a motore longitudinale e trazione posteriore, cosa che ha contribuito insieme alle sue imperfezioni a trasformarla in un mito. Solo dopo 23 anni infatti nel 2016 l'Alfa Romeo ha riproposto tale schema su un'auto di grande serie con la nuova Alfa Giulia, una vettura che ha saputo cogliere l'eredità della 75 senza pretendere però di offuscarne i fasti.